Mi scuso con gli amici di Roseto per questa breve comunicazione che devo fare. Siccome alcuni di voi mi hanno fatto domande relativamente a un episodio molto spiacevole che è successo prima della partita, è un episodio che non ha niente a che vedere con i tifosi di Roseto, non ha niente a che vedere con lo sport, è stata sporta denuncia e per maggiori informazioni vi dovete rivolgere agli organi di polizia che hanno già risolto il problema. L'autista, il nostro Pullman, è stato vittima di una minaccia abbastanza evidente da parte di una persona che però non risulta assolutamente avere a che fare con Roseto, basta. Grazie a tutti, buon salato.